buongiorno signora desidera vorrei provare quel maglione giallo che è in vetrina per favore certo che taglia preferisce vorrei una media ecco il maglione oh è bellissimo vorrei comprare anche una gonna forse questa blu signora le consiglio questa gonna grigia è più sportiva di quella blu ed è meno costosa grazie vado in camerino a provare tutto buongiorno signore prego vorrei prendere una cravatta e una camicia per piacere sì di che colore preferisce la cravatta avete cravate azzurre certo questa azzurra con le righe blu le piace sì è elegantissima che taglia le serve per la camicia una large ecco alcune camice quale preferisce questa bianca è più carina di questa gialla bene ecco a lei la camicia e la cravatta spende in tutto 70 euro pago con la carta di credito grazie arrivederci buongiorno posso aiutarla sì grazie vorrei fare un regalo alla mia mamma per il suo compleanno sì ha già pensato a qualcosa ecco vorrei regalarle una sciarpa di velluto una borsa bene che colore preferisce vorrei vedere qualcosa in lilla o in viola ah proprio il colore di moda quest'anno ho due borse adatte per una signora guardi quale le piace di più questa lilla mi sembra più elegante di quella viola anche una sciarpa di colore simile sì questa sciarpa è di sete e velluto le piace è bellissima però la vorrei più lunga sì la prendo subito anche se è più costosa va bene lo stesso sì mi fa una confezione regalo per favore certo e auguri per la sua mamma grazie a tutti